Amici di Come Don Quixote, ben ritrovati. Un radicale cambiamento antropologico è in atto in nome della quarta rivoluzione industriale per fondere il fisico col biologico e il digitale, ma l'opinione pubblica ne è pressoché ignara, distratta su altre emergenze che ne impediscono persino comprensione e dibattito. Potenziamento delle facoltà umane attraverso robotica antropomorfa, nanotecnologie ingeribili nell'organismo per dialogare con lo smartphone, dati biometrici per hackerare l'essere umano, microchip nel cervello per connessioni neurali, nel librido uomo-macchina, singolarismo come superamento dell'intelligenza artificiale a discapito di quella umana, esistenze liquide nella sostituzione dei piani tra reale e virtuale e infine la crionica per l'immortalità trabiantata in silicio su supporto magnetico per esistenze senza fine nell'internet dei corpi. Con finanziamenti a pioggia non solo dalla Siricon Valley e una diversificata rete di programmi e progetti tecnologi senza precedenti, avanza il transumanesimo, un concentrato tra le ideologie più pericolose al mondo per l'umanità secondo il politologo statunitensis Francis Fukuyama, ma pure l'ideologia folle secondo Ernesto Burgio, medico pediatra da molti anni tra le voci più autorevoli di biologia molecolare epigenetica e nuove biotecnologie genetiche, membro di importanti istituti e società scientifiche tra le quali l'Europea Cancer and Environment Research Institute di Bruxelles ed abbiamo qui con noi il piacere di intervistare proprio il professor Ernesto Burgio, benvenuto tra noi. Ciao Maurizio, grazie per l'invito. Allora prima di partire con la nostra intervista ci vediamo una breve clip con le sue affermazioni rilasciate nel convegno transumanesimo e intelligenza artificiale tenuto all'università Guglielmo Marconi col professor Massimo Fioranelli. Ora questo si può dire che la tecnologia ancora non è perfetta, ovviamente per farla passare dicono che tutto questo servirà per esempio a migliorare patologie drammatiche, vado per sommi capi, per esempio è vero che ci sono ormai animalini come i topi che possono essere, diventare degli animali cosiddetti modello, gli si fa venire una malattia neurodegenerativa, gli si mette il dispositivo e si vedono che recupera, quindi chiaramente un affetto da Parkinson di fronte a queste cose come fa a dire di no? Come fa a dire tutto questo non è positivo? Sono gli aspetti che possono sembrare attenzione perché possono portare a ben altro e questo per esempio questo è un giovane ricercatore Sam Altman che comincia a dire attenzione ma io ho l'impressione che stiamo andando molto oltre, non è detto che noi riusciremo a controllarla, questa super intelligenza che stiamo costruendo non è dominabile se non mettiamo dei paletti. Ora nella storia dell'uomo siamo mai riusciti a mettere i paletti? Perché al momento in cui le biotecnologie genetiche vengono scoperte siamo nel 76 al convegno di Asilomar tutti erano d'accordo bisogna fare una moratoria, ma la moratoria non può funzionare perché nel momento in cui c'è una tecnologia potentissima soprattutto diciamocelo nei laboratori militari ma chi può controllare? Sono tutte tecnologie duali, da un lato fanno potenzialmente del bene, dall'altro sono pericolosissime. Quindi come si fa a bloccare questo tipo di deriva? Tanto più che secondo alcuni il rischio è che questo tipo di situazione trasformi proprio il nostro modo di pensare la realtà. E adesso l'ultimo passaggio perché è quello che mi colpisce di più e come vi dicevo io volevo oggi più che altro proprio farvi vedere le loro affermazioni perché sono… come si fa a coinvolgere la gente e a convincerli? Beh uno degli aspetti a mio parere più pericolosi è questo, si utilizza ormai il linguaggio religioso in maniera molto chiaro. Non so se sapete che c'è tutta una serie di sette negli Stati Uniti negli anni Ottanta e negli anni Novanta che si definivano prometeiche o luciferiane. Queste sette, secondo me fin quando rimangono piccole sette grossi danni non ne potevano fare, però sostenevano appunto che il progresso è positivo nella misura in cui può potenziare l'uomo. Ma adesso sono le religioni più o meno ufficiali che fanno questo discorso. Questo è un grande congresso, io sono andato a sentirmi alcune di queste relazioni, questo per esempio è un mormone il quale dice noi dobbiamo pensare non alla resurrezione di qualcosa di spirituale, ma alla trasformazione del nostro organismo in qualcosa di eterno, in qualcosa di infinito. Quindi Dio lo dobbiamo produrre noi. Capite? Questo è un mormone. In teoria sono capi di religione, questo è un cattolico che dice le cose discutibili, questo dice dobbiamo arrivare a capire che ormai noi siamo in grado di fare quello che abbiamo sempre sognato, cioè di trasformarsi in creature superiori, cioè in ultima analisi in Dio. Ora, sono insomma delle persone relativamente disturbate, no, sono persone che predicano e che usano questo tipo di discorsi, qui per esempio è un prete che dice bisogna salvare anche il robot, se Cristo tornasse salverebbe anche il robot, allargherebbe, ma sono matti, no non sono matti, sono entrati in una dimensione in cui realmente diventare cyborg, perfezionare la nostra umanità, trasformarci è un ruolo in qualche modo divino. Questa è una setta, vi faccio vedere l'ultimo passaggio, vi avevo citato all'inizio Woody Allen, in realtà quella frase non è di Woody Allen, però Woody Allen secondo me in questo tipo di argomentazioni ci sta bene. Questa è una setta che di fatto ormai ci sono anche in Europa e anche in Italia, questa per esempio è una setta tecno-ottimista che invoca una nuova divinità, seme della mente cosmica che salverà l'umanità intera, ha dei simboli abbastanza inquietanti, vedete l'occhio di Mordor, avete presente il Signore degli Anelli, l'occhio del 1984, dicono ci aspetta un futuro radioso e poi si vede che stanno confezionando tutta una serie di prodotti che vengono già diffusi tra gli adolescenti, soprattutto negli Stati Uniti, ma tra un po' arriveranno anche qui, in cui bisogna costruire l'alieno terrestre, autocosciente, prossimo stadio dell'evoluzione uomo-macchina che diventerà milioni o miliardi di volte più intelligenti degli uomini e sarà il nostro nuovo Dio. Ora, tutto questo è veramente qualcosa di limitato, di secondario o c'è qualcosa di pericoloso in questo, se fosse semplicemente alcuni personaggi che stanno cercando di farlo, ma al momento in cui ci sono finanziamenti enormi, al momento in cui dall'UNESCO in poi c'è questa idea, al momento in cui i maggiori miliardari, qui li riconoscete, da Bill Gates a Musk a Bezos, stanno lavorando a questo, in parte criticamente, ma la loro critica, come giustamente vi ha fatto vedere Massimo, è un po' parziale, perché Musk dice che ci sono dei pericoli, quindi noi dobbiamo fonderci al massimo per poterla controllare, quindi di fatto che tipo di critica è? Come si fa in ultima analisi ad affrontare questo? E poi ci sono dei rischi apparentemente minori, e cioè l'intelligenza artificiale viene già utilizzata per creare situazioni come questa, avete visto questa immagine del Papa che sembrava l'uomo Michelin, Trump che è arrestato, Putin che bacia… ormai con l'intelligenza artificiale si possono mettere letteralmente in scena e addirittura fare incolpare persone che non hanno fatto nulla, si sta creando una realtà virtuale che sfugge alla possibilità del controllo, ora la manipolazione fino a questo punto della realtà in cui viviamo può avere delle conseguenze? Possiamo ancora interferire? Questa è la grande domanda. Ecco professor Burgio, allora lei ha definito al convegno il transumanesimo un'ideologia folle, abbiamo sentito però come abbia voluto sottolineare come transumanisti non siano affatto dei pazzi ma dei soggetti lucidi e determinati con faraonici finanziamenti per perseguire l'obiettivo finale, quindi non c'è da stare sereni. Ma allora io farei un discorso di questo genere, la scienza è sempre stata da un lato qualcosa di importante che ha favorito il progresso del genere umano, ha dotato l'uomo di strumenti fondamentali per poter utilizzare al meglio diciamo il pianeta e dall'altro anche spesso si è rivelata qualcosa di poco controllabile, qualcosa che è andata molto al di là degli obiettivi iniziali, è stata utilizzata a fini anche di potere. Ecco in questo caso ancora una volta dobbiamo interrogarci su questo. La scienza grande, la scienza bianca, la scienza dei grandi scienziati cerca di affrontare il grande tema che cos'è la realtà, come dobbiamo orientarci in questa realtà, si pone problemi etici di livello assoluto e cerca di controllare e di responsabilmente utilizzare tutto quello che appunto diciamo l'ingegno umano mette in campo. Ma al momento in cui ci troviamo di fronte a nuove tecnologie estremamente potenti la grande domanda è ma qualcuno può utilizzarle anche a fini di male, dove male significa, come già hai molto ben sintetizzato in questo caso, poterle utilizzare non per potenziare le nostre capacità di utilizzo delle risorse, ma per andare molto al di là di questo. Ecco l'ideologia, diciamo così, transumanista ha radici molto antiche e l'idea che l'uomo debba essere a un certo punto in grado di superare se stesso e questo in nome di un'ideologia che in un certo senso diventa metafisica, quasi religiosa, una sorta di antireligione prometeica per non dire luciferiana. Non siamo noi che lo diciamo, sono gli stessi personaggi che parlano positivamente di transumanesimo e dicono che l'uomo deve andare al di là dei suoi vincoli biologici o addirittura liberarsi, purtroppo alcuni di loro sostengono questo, di qualsiasi remora etica e di qualsiasi coordinata metafisica o religiosa perché l'uomo deve andare al di là di se stesso, trasformarsi in un essere superiore e per di più alcuni di loro e questo ci preoccupa ancora di più e non si tratta di personaggi di secondo piano, di personaggi che hanno un ruolo di consulenti, di istituzioni fondamentali, bene costoro ormai dicono che l'uomo è in grado di hackerare se stesso, di scegliere coloro che sono, possono far parte di una sorta di elite intellettuale, culturale politica che avrà il dominio del pianeta liberandosi progressivamente di coloro che non ce la fanno. Quindi diventa una visione selezionista, una visione di tipo eugenetica portata all'estrema conseguenza e del resto ci sono come giustamente anche Massimo Fioranelli qualche giorno fa a Roma ha sottolineato radici ideologico-culturali storiche direi che sono anche state recentemente ufficializzate, cioè l'idea che l'umanità non solo è in diritto ma ormai ha le possibilità, le capacità di trasformarsi in qualcosa d'altro utilizzando questa tecnologia potente o meglio queste tecnologie potenti che sono tre, le biotecnologie genetiche, le nanotecnologie e l'intelligenza artificiale che possono essere tra loro collegate in modo da potenziarsi e a vicenda e trasformarci. Questo è il grande tema. Noi cercheremo di ruotare intorno a questi tre punti all'interno di questa intervista. Siccome nell'epigenetica la sua fama è indiscussa e internazionale, chiarisco ovviamente per chi ci sta seguendo, l'epigenetica si occupa dello studio, dell'esposizione di fattori ambientali, tutte quelle modificazioni ereditabili che portano a variazioni dell'espressione genica. Però lei ha citato la possibilità di poter hackerare il DNA dell'essere umano, è un'espressione di Yamal Noah Harari, il saggista di Sapiens, il guru di Klaus Schwab nel Forum Economico Mondiale, parliamo del gota internazionale dei non eletti. La domanda che le faccio professore è proprio questa. Quindi l'epigenetica potrebbe essere addirittura superata da quest'azione transumanista. Anche qui diamo appunto delle definizioni scientificamente fondate. L'epigenetica non è una parte della genetica classica, come alcuni ancora pensano. L'epigenetica non è semplicemente lo studio di alcune variazioni del software del DNA che non cambiano la sequenza del DNA stesso. È una nuova modalità di interpretare la biologia molecolare in chiave sistemica. Che cosa studia l'epigenetica? Il modo in cui l'ambiente, soprattutto nella fase più plastica della nostra vita, quella in cui si sta formando l'embrione, il feto, il bambino, cioè i primi cosiddetti mille giorni, ci permette questa nuova scienza di studiare il modo, dicevo, in cui l'ambiente induce nel singolo bambino, nel singolo embrione, il feto, tutta una serie di modifiche di questo software del genoma che praticamente è una sorta di programmazione modulata appunto dall'ambiente. Che cosa significa questo? Significa che nel programma genetico, quindi diciamo nel DNA, c'è una sorta di programma di base che dà le indicazioni fondamentali, le predisposizioni, le potenzialità, ma poi tutto quello a cui noi siamo esposti in quella fase fondamentale della vita determina la programmazione vera e propria, quindi il nostro io biologico individuale, ma in particolare il nostro io psiconeurobiologico, cioè la nostra personalità non è scritta nel DNA, è scritta nel modo in cui il DNA viene utilizzato progressivamente per costruire il nostro sistema nervoso, il nostro sistema psiconeuroimmunoendocrino sulla base dell'ambiente in cui ci troviamo a nascere e a vivere. Ora questo è il punto perché fondamentalmente se noi esponiamo un embrione, un feto e un bambino piccolo a delle sollecitazioni o a una quantità enorme di informazioni che sono molto diverse da quelle nelle quali i nostri antenati e noi stessi siamo evoluti e ci siamo trasformati e in qualche modo mettiamo a rischio il sistema, cioè lo induciamo a trasformarsi in modo reattivo, difensivo si potrebbe quasi dire e il risultato lo stiamo vedendo già, nel senso che noi vediamo un aumento purtroppo molto allarmante in particolare di disturbi del neurosviluppo, di disturbi dello spettro autistico, di disturbi anche di personalità ormai perché oltre ai primi mille giorni c'è una seconda fase molto plastica in cui si costruiscono le reti neurali e si riformattano che è l'adolescenza, se nel bambino piccolo dilagano i disturbi del neurosviluppo propriamente detto, nell'adolescenza dilagano disturbi di personalità come quelli autolesionistici, le tendenze suicidiarie, i disturbi di comportamento alimentare gravi come l'anoressia, i disturbi bipolari, i disturbi, insomma c'è una gamma enorme di disturbi che sta dilagando e noi siamo sempre più convinti che questo non è il DNA che sbaglia, ma appunto una serie di sollecitazioni, informazioni che vengono dall'ambiente che stanno disarmonizzando il sistema. Ecco, sia in età pediatrica che poi in età adolescenziale, che tipo di ruolo giocano le nuove tecnologie sui ragazzi, sui bambini, visto che lei ha parlato di informazioni che provengono dall'esterno e che possono sollecitare in maniera diretta il soggetto in questione? Ecco, qui non è solo l'etigenetica, diciamo che sono due modalità di studio che stiamo utilizzando ormai da una quindicina d'anni. Da un lato c'è appunto l'epigenetica, cioè lo studio di questo software che ci ha fatto capire come lo stress materno-fetale, l'esposizione a una gamma enorme di sostanze che sono in ambiente, per esempio agenti chimico-fisici come i cosiddetti perturbatori endocrini, i cosiddetti interferenti endocrini, che in realtà nell'adulto sono interferenti endocrini, ma nel feto sono dei veri e propri pseudomorfogeni, quindi che disturbano la programmazione per esempio in particolare delle reti neurali ma dell'intero sistema, quindi l'epigenetica ci dà questa possibilità di studiare il modo in cui tutti questi agenti, siccome voi vi occupate anche essenzialmente di campi elettromagnetici, indubbiamente i campi elettromagnetici sono da anni sotto indagine difficilissima come sapete, perché ci sono interessi enormi che rendono molto difficile lo studio in questo campo, perché anche i campi elettromagnetici che siano stati inseriti in ambiente in modo molto rapido, accelerato, in pochi, diciamo in vent'anni, chiaramente stanno interferendo probabilmente in particolare con la costruzione delle reti neurali. L'altra modalità di studio è la connettonica, cioè la possibilità di studiare in parte sperimentalmente su animali, ma in parte anche su bambini e su adolescenti, studiare il modo in cui alcuni di questi disturbi sono legati al modo in cui le reti neurali disturbate nel loro programmasi possono, anziché collegarsi in modo corretto, attivarsi in maniera sbagliata. L'esempio classico è il centro del piacere, o della ricompensa, o meglio ancora della ricerca, che è un'area molto antica del nostro cervello che viene attivata, per esempio, ogni volta che è un bambino, perché ormai perfino i bambini gli mettono in mano uno smartphone senza capire... Anche in carrozzina, sì, li vediamo anche in carrozzina, è vero. Senza capire i rischi che questo comporta, ebbene ogni volta che si accende uno smartphone, ogni volta che ci si espone a un device, nel cervello del bambino, ormai lo vediamo, dell'adolescente migliaia di volte al giorno, si attiva questo centro di ricompensa, si scatena tutto un circuito di dopamina che li rende dipendenti, che li rende potenzialmente tolleranti, nel senso che più lo usano e più ne hanno bisogno e più diventano insensibili in qualche modo a quei primi disturbi che potrebbero rallentarne l'uso ed entrano veramente in un sistema, si può dire quasi no, ma lo diciamo di droga. Questo tipo di tecnologia è analogo alla droga, quindi noi siamo molto preoccupati e stiamo cercando di creare nei pediatri, nei neuropsichiatri infantili, negli psicologi dello sviluppo, potenzialmente addirittura anche nei ginecologi, una cultura della prevenzione di questi disturbi. Sì, e noi recentemente abbiamo mostrato anche un documento allarmante, approvato, prodotto alla fine della scorsa legislatura, dalla Commissione Istruzione del Senato della Repubblica, dove parla espressamente di droga web, quindi esattamente le sue parole affianca praticamente le nuove tecnologie, una vera e propria dipendenza come le droghe, soprattutto nei giovani. Però tornando al transumanesimo, in apertura ho fatto riferimento a Francis Fukuyama, il consulente di bioetica al tempo della presidenza Bush, oltre ad affermare molto pericoloso il transumanesimo, diceva che politicamente era isolato. Magari la politica è proprio quell'ambito che andrebbe sollecitato maggiormente, visto che Zangeberg e Schwab vengono ricevuti a Palazzo Tigi. Noi alla Camera dei Deputati abbiamo assistito recentemente a convegni dove si parla di tecno uomo, visto che siamo di recente, nel 25 aprile, ma non crede che il transumanesimo sia la vera e propria ideologia del terzo millennio? Cioè la politica sta sposando in maniera critica una nuova ideologia che non ha precedenti nella storia dell'umanità, oltre che nella storia della politica stessa? Sì, allora, da un lato io concordo con queste analisi, quantomeno con la necessità di avere una visione critica che non sia puramente ideologica, perché chiaramente uno potrebbe dire Fukuyama, per esempio, o un altro veramente grande pensatore, possiamo dire, o studiaoso del linguaggio, come Noam Chomsky, recentemente hanno sottolineato questi rischi, non solo del transumanesimo, ma in generale di una tecnologia che si sostituisce letteralmente a quello che per millenni, se non per milioni di anni, ha favorito un'evoluzione, uno sviluppo corretto del nostro, diciamo, connettoma, cioè delle nostre reti neurali, ma addirittura ultimamente una serie di guru della Silicon Valley, una serie di personaggi del grande management internazionale delle multinazionali dell'informazione, per esempio, perfino Musk, perfino personaggi famosi nel senso, non voglio dire negativo, ma nel senso del grande entusiasmo per queste tecnologie, hanno proposto una moratoria, perché hanno capito che di fronte a queste problematiche, a questi rischi, bisognerebbe stare molto attenti, perché da un lato le potenzialità enormi, ma dall'altro appunto quello che sta emergendo è che il software del nostro sistema nervoso è sotto stress e mentre gli adulti possono compensare, i bambini no. Quindi da un lato è la necessità di studiare questo su un piano scientifico, dall'altro chiaramente c'è anche il problema che Chomsky, Fukuyama e altri hanno posto, e cioè questa vera e propria ideologia di un progresso superumano, di un'idea transumana, rischia di diventare talmente condizionante da riversare gran parte dei finanziamenti in una tecnologia non solo poco conosciuta per i suoi effetti oscuri, ma che letteralmente cambia le prospettive, anziché essere, non voglio dire un animale tra gli altri, perché chiaramente l'uomo ha un ruolo ormai diverso dagli animali, a qualcuno che è in grado anche di proteggere la biosfera, per esempio l'ecosfera, abbiamo già dimostrato di non essere troppo spesso in grado di farlo, ebbene adesso a quello che sono i problemi già noti e studiati, come il cambiamento climatico, lo stravolgimento degli ecosistemi microbico-virali, l'alterazione di tutti i cicli biogeochimici, si aggiunge anche questo grande tema dell'intelligenza artificiale che rischia di cambiare addirittura la semiosfera, cioè tutta la sfera dei linguaggi, della comunicazione e della società. E questo addirittura in prospettiva di futuro, perché già si programmano generazioni, prossime venture che non sono più soltanto umane. Ecco, questo veramente diventa, come giustamente detto nell'introduzione, molto pericoloso e dobbiamo prevenire, non curare, perché potrebbe essere troppo tardi al momento in cui ci sono già 20, 30, 50 mila persone ufficialmente in Europa e probabilmente sono già di più che viaggiano con dei device inseriti sotto cute e alcuni addirittura già nel cervello. Insomma, sono tecnologie molto invasive che stanno letteralmente sfidando i limiti, secondo me non voglio dire concessi all'uomo, ma di cui noi siamo in grado di avere consapevolezza e responsabilmente poter controllarle. Noi non siamo in grado di controllarle. Certo. Lei ha fatto prima riferimento alla richiesta di moratoria per sei mesi avanzata da un gruppo di ricercatori capeggiati da Elon Musk. La richiesta è questa. Stop allo sviluppo di chat GPT. Rischiamo di sconvolgimenti epocali. Grandi rischi per l'umanità. Però a capo di questo appello c'è Elon Musk, il guru di Tesla, SpaceX, di Neuralink e poi altri guru della Silicon Valley, da Meta, Microsoft, Google, Amazon. Insomma, tutto il gota dei transumanisti, compreso David Orban, l'ex presidente della principale associazione transumanista mondiale e poi Harari, l'abbiamo citato prima. La domanda che le faccio, ma non le sembra un po' un controsenso che i transumanisti chiedono di fermare l'intelligenza artificiale forse a me pare un po' creare il problema per trovare la soluzione visto che poi stanno indirizzando tutti sul microchip cerebrale per la connessione neurale e quindi l'interfaccia uomo-macchina. Guarda, il problema vero è questo. Capire se questa richiesta di moratoria è qualcosa che ha veramente non solo nei propositi, ma anche nella sua applicabilità, un risvolto essenzialmente positivo o anche risvolti critici di pericolo ulteriore. E a che cosa mi riferisco? Allora, quando si propone una moratoria, il primo problema è ma questa moratoria ha delle possibilità di essere applicata. Lo abbiamo già visto con le biotecnologie genetiche applicate ai virus. Al momento in cui si usano tecnologie molto pericolose, come per esempio i cambi, gli aumenti cosiddetti di funzione, per cui si studiano delle mutazioni che fanno sì che un virus pericoloso diventi ancora più pericoloso ufficialmente per trovare farmaci e vaccini, è ovvio che si tratta di tecnologie cosiddette duali che possono essere utilizzate a fini non di bene. Ora, tutto questo, lasciando perdere se è già successo o non successo, sappiamo che incidenti, quantomeno in questa sfera ci sono, ma insomma è stato dimostrato ampiamente che la cosiddetta moratoria richiesta da Obama nel 2015 è stata bypassata allegramente subito dopo. Hanno continuato a fare tutto quello che volevano in centinaia di laboratori in tutto il mondo, gli Stati Uniti ovviamente, Cina ovviamente, ma anche Gran Bretagna, anche altri paesi e adesso alcuni laboratori che dovrebbero fare questo tipo di lavoro sono programmati e in parte già esistono anche in Italia. Quindi la moratoria non ha funzionato. Ora, lo stesso discorso vale per l'intelligenza artificiale. è veramente possibile imporre una moratoria su una tecnologia che già viene non solo propagandata, ma usata ovunque? Allora, probabilmente è una mossa strategica. Alcuni di loro lo fanno per due motivi. Il primo perché sono in competizione tra di loro, per cui alcune di queste tecnologie sono quelle che sono state finanziate da Elon Musk, altre da Zuckerberg, che tra di loro chiaramente sono in competizione. Ma c'è anche un altro motivo, e cioè che loro hanno visto comunque, per esempio Neuralink, e cioè il progetto di Musk, che hanno avuto degli effetti molto gravi, per esempio nelle scimmiette che erano state... I macchi. Quindi chiaramente hanno capito che rischiano un boomerang, perché se viene fuori che queste tecnologie invasive possono produrre la morte e comunque effetti di malattie gravi in coloro che sono attualmente delle cavie, e chiaramente questo può portare a un enorme rallentamento del loro business. Allora, quello che stanno cercando di fare è di arrivare con una gradualità maggiore a poter proporre fino in fondo le tecnologie, ma una parte di queste già le hanno applicate e le stanno diffondendo, e lo sottolineo ancora una volta, nelle scuole. Cioè lì dove veramente l'effetto di questa, per esempio, del cosiddetto multiverso, della cosiddetta realtà aumentata nelle reti neurali dei bambini è un'incognita assoluta, perché per millenni i bambini hanno calibrato il loro connettoma, le loro reti neurali nella relazione con l'altro, essenzialmente col cosiddetto caregiver, che è la madre, poi il padre, i genitori, gli insegnanti e la natura. Ora, sostituire almeno in parte questa relazione affettiva, emotiva, profonda, con una relazione da parte di un sistema che utilizza solo le reti neurali in modo non emozionale, in senso corretto, è una sfida pericolosa. Quindi lì bisognerebbe mettere la moratoria, non su tecnologie sperimentali. E lì nessuno ne parla, anzi in Italia siamo tra virgolette a scuola, abbiamo fatto da poco un grande convegno su questo, c'è una sorta di entusiasmo irresponsabile perché sono arrivati grandi finanziamenti e però gli insegnanti già cominciano a vedere che tutto questo è pericoloso. Però i genitori stessi non ne sono consapevoli, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è informare, formare alle potenzialità ma anche ai rischi di tutto questo. e non è facile. Non è facile. E noi per quanto possiamo, ovviamente facciamo la nostra parte, abbiamo già focalizzato la scuola 4.0, i fondi a pioggia del piano nazionale di ripresa e resilienza che stanno trasformando le scuole in veri e propri incubatori, mettiamola così, digitali. Però il punto qual è? Che dal 5G poi alla fine si passa al 6G, quindi dall'Internet of Things, dall'Internet delle cose, il punto d'arrivo nella scala programmatica, cronoprogramma 2030 è l'Internet of Bodies, l'Internet dei corpi. È pur vero, come diceva lei, il professor Burgio, che Elon Musk con Neuralink ha avuto un disco rosso dalla Food and Drug Administration, quindi è stato bloccato il progetto per ora che ha visto già la morta di decine di macachi tra atroci sofferenze, ma è pur vero che il progetto sta avanzando in un'altra start-up che è Synchron, così come è pur vero che i fondi europei, mi riferisco ad Horizon, Horizon, Orizzonte, prevedono nel grafene, piuttosto che nelle connessioni neurali, piuttosto che in nanotecnologie impiantabili, ingeribili, la medicina del futuro. Quindi la partita è molto, molto ampia e soprattutto il business è molto grande. Guarda, il problema diventa, a mio parere, come in altre tematiche di questo tipo, come è stato per le biotecnologie genetiche qualche anno fa, o si crea un movimento, io dico così, di resistenza gambiana, per intenderci, cioè che dal basso, migliaia e poi milioni di persone, soprattutto operatori sanitari, operatori scolastici, genitori, e lo sottolineo ragazzi, vengono formati e informati al punto tale che capiscono i rischi, e cominciano anche a pretendere di non essere delle vere e proprie cavie, ovvero l'esperimento purtroppo andrà avanti. Perché? Perché chiaramente quando ci sono interessi strabordanti è difficile immaginare che sia la politica o addirittura il mondo finanziario che prenda delle decisioni. Sì, possono essere preoccupati alcuni di loro, possono cercare di mettere dei paletti quando hanno visto alcuni effetti molto pericolosi, ma essenzialmente loro vanno avanti dove ci sono investimenti e grandi guadagni. Quindi deve essere la società civile, è un termine purtroppo abusato, ma insomma dobbiamo essere noi a organizzarsi, quindi questo circuito deve assolutamente nascere e crescere in maniera sana, lo ripeto non ideologico, cioè dobbiamo pretendere che ci sia un'informazione scientifica, una possibilità di ricerca indipendente, una possibilità di formazione, lo ripeto, indipendente, alla quale partecipino tutti però, non solo gli operatori, non solo per esempio gli operatori sanitari e scolastici, i primi finora non se ne sono occupati quasi per nulla, i secondi sono in prima linea anche per questi grandi finanziamenti, ma anche genitori, e risottolino la seconda volta i ragazzi, perché sono convinto che gli adolescenti in questo momento, se messi di fronte al fatto che stanno diventando delle cavie loro e i più piccoli, possono pretendere una verifica e un'analisi più responsabile dei benefici, ma soprattutto dei rischi, perché così si dovrebbe procedere. Certo, e il primo appello dal mondo accademico è arrivato nel 2019, alcuni professori universitari, studiosi, ricercatori e docenti hanno sottoscritto un appello contro il transumanesimo, i transumanisti negano questa qualità distintiva dell'esistenza umana, riducendo così la nostra natura senziente a quella dei robot, noi non vogliamo fare la fine dei robot, quindi c'è qualcuno che comincia a muoversi e soprattutto a gettare il sassolino nello stagno, però evidentemente, come diceva giustamente lei, il professor Burgio, c'è bisogno di un vero e proprio fronte dell'esistenza non ideologico, che sappia comprendere il pericolo in atto e soprattutto denunciare che cosa sono, quali sono le mire del transumanesimo. Però volevo sottoporle questa notizia. Lo scorso anno in Cile è stata ufficialmente approvata la prima legge al mondo sul transumanesimo, aprendo di diritto la strada all'essere umano mutante, geneticamente modificato, un po' come teorizzano quelli della postumanità, gli ingegneri genetici del grande reset. Il testo di legge cileno proibisce la discriminazione in ambito lavorativo contro persone mutate geneticamente. È la prima volta, non si era mai vista una cosa del genere. Sì, ma ancora una volta, ne vedremo, ne vedremo di provvedimenti più o meno, diciamo, di livello formale, istituzionale, a livello sia giuridico che a livello anche sanitario, perché comunque, mentre noi siamo attenti al problema dei rischi, c'è chi va avanti a spada tratta, convinto che quello è l'ineluttabile progresso dell'umanità. Non c'è niente da fare. Il problema, per questo dico, non è tanto provvedimenti o regole. Le regole sono importanti se riusciamo progressivamente a farle prevalere con una voce importante, diciamo, sottostante o retrostante, che è quello di milioni di persone finalmente rese consapevoli e informate. Perché altrimenti qualsiasi regola verrà bypassata, fin quando la gente non si rende conto dei rischi, continuerà, in fondo, a pensare che di fronte ad altre problematiche più concrete, che è lo stipendio di fine mese, il posto di lavoro assicurato, la vacanza in estate, o addirittura, adesso voglio dire, il signor Araris è permesso di dire, in maniera plateale, che l'importante è tenere a bada le decine, le centinaia di milioni di esseri umani che non sono in grado di capire l'importanza di tutto questo mediante videogiochi, mediante tutta una serie di, come si potrebbe dire, panem et circensis, come dicevano i latini. Questa è la loro logica. Ora, è una logica abberrante, però è inutile protestare o additarli come persone indegne, questo ognuno faccia quello che crede, ma creare un circuito di consapevolezza, questo sì. Se noi vogliamo immaginare che a un certo punto il politico si trovi motivato a, per esempio, portare avanti un discorso di ricerca limpida e di consapevolezza e poi agire sul piano giuridico, lo farà soltanto al momento in cui sa che ci sono milioni di persone che lo chiedono. Perché è quello il problema. A livello di politica, che ci piaccia o meno, è il consenso quello che i politici sono più o meno costretti a cercare. E il consenso significa che fino a quando milioni di persone sono disattenti o favorevoli perché inconsapevoli, il politico non si muoverà. E lo stesso giurista contrario non avrà grande possibilità di trovare, se non delle ipotesi di livello giuridico. al momento in cui ci saranno milioni di persone che chiedono consapevolmente formazione, informazione, regole, allora la cosa cambia. E ogni paese deve fare da sé. Perché se si spera di arrivare immediatamente a livello internazionale e a grandi decisioni, in questo momento io non vedo chi possa. Perché l'unica autorità che si è mossa in qualche modo criticamente negli ultimi anni è stata proprio il Papa. Però perfino dentro il Vaticano, come sapete, c'è stato un insieme di insomma di posizioni di resistenza. Contrastanti. E' così. Insomma, bisogna muoversi consapevolmente e bisogna creare strumenti per, lo ripeto, ricerca, formazione, informazione prima di tutto. Dopodiché scientificamente fondati, i nostri dubbi e la verifica dei rischi e dei danni, chiaramente si arriva a delle regole condivise e a un appoggio formale da parte di vari soggetti importanti. Così bisogna procedere. Siamo in chiusura, Professor Burgio. L'ultima domanda, visto che lei sintetizzando ci ha fatto capire come ad esempio il metaverso per i giovani possa essere un transumanesimo dolce, subdolo, sotto mentite spoglie. Però lei, al convegno di Roma, quindi torno da dove siamo partiti, ha parlato un po' dei finestre di Overton aperte anche da Hollywood, Odissea, nello spazio 2001, Blade Runner, Matrix. Quindi però, diciamo, il transumanesimo ha avuto all'interno delle pellicole, dei film, dei piccoli avamposto, mettiamola così. quindi si sensibilizza l'opinione pubblica ad accettare in maniera dolce, potremmo dire, questo nuovo futuro che prima non c'era. No, attenzione, direi che ancora una volta il discorso è più complesso e più sfumato. Noi abbiamo appena fatto un grande congresso a Padova e ne faremo uno tra poco a Urbino, poi ti manderò il programma. Con molto decere. secondo me l'iscrizione a questi congressi ha un piccolo costo rispetto a quello che è la complessità perché abbiamo organizzato un congresso a Padova con 350 in presenza, capisci? Cosa grossa. Ed è venuto fuori proprio questo e cioè che i primi a mettere in chiaro che ci sono dei rischi nella modalità in cui l'immaginario viene condizionato sono stati proprio alcuni grandi autori di fantascienza e alcuni registi perché 2001 Odissea nello spazio per esempio è stato un film cult se lo vogliamo definire così proprio nella misura in cui il diciamo computer di bordo cerca di prendere il potere e addirittura di far fuori e ne fa fuori una parte di esseri umani che lo controllano abbiamo pochi secondi professore le chiedo gentilmente era fantascienza ma sia 2001 sia Blade Runner sia Matrix hanno anticipato quello che potrebbe succedere la cosiddetta rivolta delle macchine in realtà significa che l'intelligenza artificiale può prendere il sopravvento sull'umano noi di questo dobbiamo occuparci perché è un pericolo reale allora era fantascienza ora rischia di essere ora in realtà noi torneremo su questi temi e grazie alla sua disponibilità magari a farci una nuova chiacchierata grazie ancora per la disponibilità professor Ernesto Burgio sicuramente torneremo a trattare di questi temi caro saluto a tutti da Maurizio Martucci grazie a tutti